Accordo, disaccordo Lecito, illecito Conosciuto, sconosciuto Continuo, discontinuo Fortunato, sfortunato Logico, illogico Onesto, disonesto Educare, diseducare Provveduto Sprovveduto Amore Disamore Attento Disattento Consigliare Sconsigliare Sconsigliare Giungere Disgiungere Cortese Scortese 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 In casa mia c'è ancora qualcuno Questo fine settimana usciamo Alcuni insetti vivono un giorno Ho qualche vestito da regalare Ho qualche vestito da regalare Conosci qualcuno dei suoi amici? Ogni sabato vado in discoteca Faccio un regalo a ognuno di voi Alcune di loro sono belle Qualche mese fa ho viaggiato So alcune parole in italiano C'è qualcuno che ti sta chiamando Esco ogni volta che c'è il sole Alcuni fiori perfumano molto Ho qualche bibita in macchina Di chi è questa giacca? È mia È mia Di chi è questo impermeabile? È suo Di chi è quella macchina? È sua Di chi è quello zaino? È nostro Di chi sono quei vestiti? Sono loro Di chi sono quelle sciarpe? Sono mie Di chi sono questi bicchieri? Sono suoi Di chi sono quelle bibite? Sono sue Sono sue Di chi è questo cappotto? È mio Di chi sono quegli orologi? Sono nostri Di chi sono quelle case? Sono loro Di chi è quel bambino? È suo È suo Di chi sono questi giornali? Sono suoi Di chi è quel gatto? È tuo Di chi sono quelle valigie? Sono loro Sono loro Di chi è stata l'idea? È stata mia Di chi è l'auto qui fuori? È sua Di chi è quella villa? È nostra Di chi sono questi maglioni? Sono vostri Di chi è questo tavolo? È mio Di chi sono quelle moto? Sono loro La mattina bevo molta acqua Gli italiani sono molto eleganti Gli olandesi sono molto allegri Vedo molte donne vestite bene Conosco molte lingue straniere Molti autobus aspettano in fila Le regioni italiane sono molte Questi sono molto interessanti Luca e Claudia sono molto belli I nipoti stanno molto bene Sto molto bene e sono felice Molti amici sono arrivati adesso Cerco di imparare molte lingue Molti studenti arrivano in ritardo Quanti di voi passeranno le vacanze in Italia? Quando ti svegli la mattina? Molto presto Quanto costa quel libro? 40 euro Quanti figli avete? Un maschio e due femmine Dove abiti? A Madrid? No, abito a Lisbona Come trovi i tuoi colleghi? Sono simpatici Quali progetti sta realizzando la tua ditta? Quanto durerà il film? Circa un'ora e mezzo Chi conosci a questa festa? Solo tuo figlio Quanta gente è venuta all'inaugurazione? Da quanto abiti qui? Da 5 anni Qual è il tuo sport preferito? Il calcio Che lavoro fai? Faccio l'insegnante Quando hai cominciato a lavorare? A 22 anni Stasera andiamo in discoteca I bambini vanno al ristorante Luigi va in montagna a sciare Oggi devo andare dal dottore Vado in vacanza in autunno Gli altri sono andati in città Appena esco vado in banca Sabato vado a un matrimonio Domattina andiamo da Paolo Andate al mercato più tardi? Sono appena andati al bar Oggi vado a letto alle 10 Ad agosto andiamo in Italia Vado a Lisbona in macchina Queste mele sono buonissime La sua auto è più nuova della mia Mio padre è il più alto della famiglia Il mio compito è migliore del tuo Alessandro è alto come Michele Questa casa è meno cara dell'altra Questa zona è la peggiore della città Questo pranzo è il migliore dell'anno Claudia è la meno bella di tutte Nonna è la cuoca migliore del mondo Le sue lasagne sono buonissime Luca ha i voti più alti della scuola Il mio cane è più vecchio del tuo Questo libro è bello come l'altro La mattina è peggio del pomeriggio Si è preparato benissimo per l'esame Spero che domani vada meglio Per Marco è stata un'ottima vacanza Questo caffè è buonissimo Il treno è arrivato più tardi di ieri Lui è il cantante peggiore in assoluto Questo piatto ha un ottimo sapore La tua casa è alta come la mia Luca è bravissimo a disegnare Il mio quaderno è ordinatissimo La zuppa è meno calda del solito Le campane suonano fortissimo La mattina fa più freddo che la sera Avete degli amici italiani? No, non ne abbiamo Vorrei una bottiglia d'acqua Ne hai una più piccola? Luca ha un cane Io ne ho due Le forchette non bastano Dammene altre Vorrei del prosciutto Mi dispiace, non ce n'è più Ho una nuova macchina Ne vorrei una anch'io Che ne pensi di Paolo? Ho speso molto Ho speso molto Ma ne è valsa la pena Chi se ne importa O chi se ne frega? Non ne posso più Me ne devo andare Quante cartoline devi scrivere? Ne devo scrivere altre due Quanta pasta vuoi oggi? Oggi ne voglio mangiare poca Hai sentito le ultime notizie? No, non ne so niente Oggi ho ricevuto molte telefonate Ne ho ricevute dieci Andiamo via, che ne dici? Quante me le vuoi? Quante me le vuoi? Le vorrei tutte Hai bisogno di una matita? Sì, ne ho bisogno Conosci qualche cantante italiano? No, non ne conosco nessuno Non ne ho più voglia Ho comprato un libro e ne ho lette due pagine Io voglio Tu vuoi Lui, lei vuole Noi vogliamo Voi volete Loro vogliono Io posso Tu puoi Lui, lei può Noi possiamo Voi potete Loro possono Io volevo Tu volevi Lui, lei voleva Noi volevamo Voi 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 volevate Loro volevano Io potevo Tu potevi Tu potevi Lui, lei poteva Noi potevamo Voi potevamo Voi potevamo Voi potevamo Voi potreste Loro potreste Loro potrebbero Io potrei Tu potresti Tu potresti Lui, lei potremmo Voi potreste Loro potrebbero Io devo Io devo Tu devi Lui, lei deve Noi dobbiamo Voi dovete Loro devono Io so Tu sai Lui, lei sa Noi sappiamo Voi sapete Loro sanno Io dovevo Tu dovevi Lui, lei doveva Noi dovevamo Voi dovevate Loro dovevano Io sapevo Tu sapevi Lui, lei sapeva Noi sapevamo Voi sapevate Loro sapevano Io dovrò Tu dovrai Lui, lei dovrà Noi dovremo Voi dovrete Loro dovranno Io saprò Tu saprai Lui, lei saprà Noi sapremo Voi saprete Loro sapranno Io dovrei Tu dovresti Lui, lei dovrebbe Noi dovremmo Voi dovreste Loro dovrebbero Io saprei Tu sapresti Lui, lei saprebbe Noi sapremmo Voi sapreste Loro saprebbero Marco Marco ha venduto la sua macchina Sara è andata al cinema Maria ha comprato le scarpe nuove I miei amici I miei amici sono andati in Italia Anche le sue amiche sono andate in Italia Loro Loro hanno visto quel film già due volte Voi avete già mangiato vero? Noi tutti siamo andati al parco ieri Maria Maria quando sei tornata dall'Italia? Maria quanto pane hai comprato?